Volevo un altro dato che volevo sottolineare del rapporto è che noi diamo oggi l'ulteriore aggiornamento del dato dei rimborsi dei debiti delle pubbliche amministrazioni ai singoli creditori. Avevamo dato alcuni dati all'inizio di settembre e oggi nel rapporto diamo il dato a ieri sostanzialmente che indica che noi abbiamo erogato agli enti pubblici 17,9 miliardi che è lo stesso dato di qualche giorno fa ma che i pagamenti fatti ai creditori sono saliti a 11,3 miliardi rispetto al dato di due settimane fa. Quindi il 63% dei crediti previsti per il periodo della seconda metà dell'anno in corso sta andando avanti ad un passo via via più sostenuto. Quindi questo è un altro elemento che porta a ritenere perfettamente realistico e realizzabile il dato sulle prospettive di crescita e di sostegno all'attività economica.